Ciao pesci, buon febbraio 2020. Non fare casini, ok? È il mio monito, proprio perché nell'aria, anzi c'è una bella rietta, un bel clima teso teso che ti porta a trasformarti da pesciolino a squalo, squalo velenoso per giunta. Proprio perché su gennaio, nelle ultime due settimane di gennaio che ti lasci alle spalle, la presenza di venere nel tuo segno, inquadratura a marte nel sagittario, ha sollevato parecchia inquietudine. Inquietudine per problemi connessi al lavoro, alle dinamiche familiari o nei rapporti sentimentali, inquietudine che ti ha proprio fatto trasformare in uno squalo con tante fila di denti pronto a mordere. E diciamo che fino al 17 di febbraio, a fasi alterne, il dentino potresti tirarlo fuori ancora qualche volta. Ma su, comunque, febbraio, le frequenze armoniche di questo cielo ti porteranno anche a sentirti molto più alleggerito. Le scelte che tu hai preso o alcune condizioni che si sono proprio verificate nelle ultime settimane, quindi parliamo di gennaio, ti porteranno a trarre delle conclusioni importanti e a riprendere in mano una situazione su cui ti è sfuggito il controllo proprio nelle ultime settimane. Febbraio, però, è anche il mese del tuo compleanno. Non ti faccio gli auguri in anticipo, non perché sono superstizioso, perché possono ancora cambiare diverse cose da qui al 19 di febbraio, giorno in cui il sole irrompe nel tuo segno. Intanto, già dal 3 di febbraio, Mercurio entra nel tuo spazio zodiacale, portando, catalizzando l'attenzione su di te, e quindi non sarai più come prima, che ti spenderai per gli altri, per delle situazioni che non ti hanno portato da nessuna parte, e che ti hanno fatto percepire come la sensazione di vivere una vita non tua, e vivere di più la vita degli altri, perché ti dovevi spendere per gli altri, o perché ti sei accorto che alcune situazioni ti stavano facendo prendere una strada a senso unico nella migliore delle ipotesi, a fondo chiuso, quindi a strada chiusa nella peggiore, e quindi questo Mercurio che irrompe nel tuo spazio zodiacale dal 3 di febbraio, porta tutto verso di te, nella tua direzione, e anticipa quella fase di rinascita che vivrai più che altro dal 19 di febbraio in avanti, quando il sole irromperà nel tuo cielo, promuovendo una sorprendente rinascita, rinascita che ti prepara a un importante cambiamento, questo poi ti invito naturalmente ad andare a riascoltare, o ad ascoltare se sei appena arrivato su questo canale, l'oroscopo del 2020, perché questo per te sarà un anno di scelte importanti, scelte che possono implicare un cambio professionale notevole, un cambio di casa, o alcune situazioni nei sentimenti, portando soprattutto nelle storie vecchie, nelle storie ormai esauste, nelle storie che non hanno più ragione d'essere, a un cambiamento, a un cambio di rotta notevole, quindi mi raccomando, usa bene queste scelte, ma prima di prendere qualsiasi decisione importante nella tua vita, soprattutto se adesso si sono verificate delle condizioni o delle situazioni che ti hanno portato a fare i conti con una realtà che non ti piace, ti invito a non essere precipitoso, a non mettere tutto troppo sotto revisione, a lasciare che le situazioni possano anche un po' prendere forma da sole, aspettando proprio la ricarica energetica solare, proprio perché potresti ancora vivere tutta una fase di ripensamenti, dove rimetterai in discussione rapporti, situazioni connesse al lavoro, o connesse alla casa, o alla ricerca di una casa, e quindi, o alla ricerca di un nuovo lavoro, quindi non essere precipitoso, non forzare più di tanto le cose, questo mese di febbraio è da vivere un po' così come in attesa di rinascere, quindi stai dietro le quinte, cerca di capire come fare per ridistribuire questo carico, poi comunque mercurio arrivando nel segno dal 3 di febbraio sbloccherà già delle cose, o comunque ti farà, ti darà anche un po' più di ossigeno, e quindi cambierai magari atteggiamento, diventerai un po' più individualista, dirai a sì, ieri mi hai fatto passare la sete con il prosciutto crudo, oggi te la faccio passare io, ma mi raccomando, usa tutta la diplomazia che conosci, non essere precipitoso, proprio perché in questa fase, ancora con Marte nel segno, almeno fino al 17 di febbraio, c'è un'altissima probabilità che le tue scelte, il tuo modo di fare, o le tue decisioni, che stai gestendo a livello professionale, o a livello di relazioni, possano in qualche modo crearti dei nemici, quindi mi raccomando, onde evitare poi di veramente di passare alla versione, 2.0 dello squalo, e quindi trasformarti da pesce a squalo, da squalo in drago, mi raccomando, non essere troppo impulsivo, non essere troppo precipitoso, ripeto, questa è una fase molto importante per lavorare dietro alle quinte, preparare tutto il necessario per la tua sorprendente rinascita, che avverrà dalla seconda metà di febbraio in avanti. Per quanto riguarda il discorso sentimentale, gennaio è un mese che ha picchiato giù parecchio, che ha portato una profonda insoddisfazione, o una profonda disillusione ai pesci, poi ognuno di noi ha una sua situazione personale astrologica, però questa insoddisfazione o queste disillusioni hanno premuto parecchio ultimamente. E dal 7 di febbraio, Venere, lascia il tuo spazio zodiacale. Entrando nel segno dell'ariete, porterà un lento rilascio di tutto quello che si è verificato, portando di fatto consapevolezza nella tua vita, cioè aprirai gli occhi anche sui tuoi sbagli, i tuoi errori, perché ricordiamoci che se noi facciamo la guerra con qualcuno o per qualcosa significa che la colpa è al 50%, quindi poi ci sono alcuni casi, ma rari, dove noi subiamo e basta, però bisogna anche arrivare ad ammettere che se abbiamo investito su una persona sbagliata dei sentimenti e delle emozioni e poi non possiamo dare a questa persona tutta la colpa del mondo se noi ci siamo accorti strada facendo che continuavamo a riempire la coppa che non voleva ricevere liquido o che a riempire il cuore di una persona chiuso, quindi è anche colpa di chi permette di chi permette queste cose ma è anche la colpa di chi si rende conto che sta dando nutrimento a una relazione sbagliata e quindi questa venere dal 7 di febbraio in avanti entrando nel segno della riete ti porterà un po' più di consapevolezza, questa consapevolezza ti aiuterà ad aprire ulteriormente gli occhi su quelle che sono le dinamiche che devono cambiare nella tua vita quali sono gli atteggiamenti che tu dovresti cambiare per ottenere più garanzie proprio in funzione non solo a livello sentimentale ma anche a livello personale nei rapporti d'amicizia così come nelle dinamiche proprio che riguardano la tua capacità di rivenderti anche nel lavoro e quindi quanto vali economicamente ecco che questa venere ti farà aprire bene gli occhi accorgendoti dei tuoi sbagli del passato ma anche dandoti delle nuove portando nella tua vita delle nuove consapevolezze che ti aiuteranno a trovare delle soluzioni è un periodo che si parla più che altro delle coppie che sono sopravvissute a questo transito quindi può portare a far pace a discutere, a ridiscutere, a rinegoziare magari i termini di un rapporto e quindi ci sarà la possibilità di ricucire un rapporto se ha subito degli scossoni nelle ultime settimane così come possono verificarsi delle situazioni che portano, dopo aver subito dopo aver affrontato delle prove notevoli nella vostra esistenza sto parlando soprattutto dei pesci che stanno in coppia da tanto tempo ecco che questa venere può portare più garanzie per il futuro e quindi dal 7 di febbraio in avanti magari molti riceveranno delle proposte interessanti oppure saranno i pesci a fare delle proposte interessanti smollando magari un atteggiamento che avevano che li penalizzava e quindi riceveranno magari la proposta di una convivenza o di organizzeranno il matrimonio per l'estate quindi ci sono delle cose notevoli che prendono forma e che porteranno anche i single a impattare con la realtà dei fatti che deve cambiare e quindi questa realtà dei fatti cambierà, aiuterà a cambiare il loro atteggiamento per avere più conferme in cambio degli altri e quindi negli incontri non sarete più allo sbaraglio delle vostre emozioni dei vostri sogni delle vostre congetture mentali sarete molto pratici del senso ok io vengo con te a me cosa mi viene in tasca? cose di questo tipo quindi se ci sarà proprio un modo diverso di approcciarsi all'amore e questa cosa può permettere ai single proprio nel mese di febbraio di intrecciare relazioni che sono più vicine alle proprie esigenze tutto qui però mi raccomando davanti ai nuovi incontri non correte non siate precipitosi perché potete ancora cambiare idea ve lo ricordo e dovete semplicemente essere onesti e voi stessi non dovete essere qualcos'altro o sforzarvi di essere qualcos'altro ricordatevi che la vostra natura è quella non potete cambiarla più di tanto quindi consapevolizzatevi tutto quello che volete però andate incontro agli incontri scusatemi il gioco di parole con più serenità facendovi meno problemi mettendo meno sovrastrutture davanti meno paletti meno tu sai quanto vali se oggi tu pensi di valere 10 chiedi 10 in cambio e non scendere sotto il 10 perché se no siamo punto e a capo e con questo è tutto io ti auguro uno splendido febbraio stellare ciao